Igeneservice è un'impresa di servizi ambientali specializzata in deratizzazioni, disinfestazioni, sanificazioni e disinfezioni ambientali eseguite con la massima professionalità e competenza. Il 16 di ottobre un pezzo di Elbas sarà al Parlamento Europeo delle Imprese. Franca Rosso, titolare di Igeneservice e dell'azienda di dermocosmesi Health & Beauty, sarà a Bruxelles insieme ad altre 70 aziende italiane che saranno ricevute dal Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, e da una delegazione di parlamentari italiani. Dopodomani, il 16 di ottobre, abbiamo la giornata dell'impresa al Parlamento Europeo. Io vado con mio figlio Tommaso e saremo con la delegazione italiana. Partecipano 750 imprenditori di tutta Europa, di 27 paesi europei, quindi gli italiani dovrebbero essere circa una settantina. Avremo una giornata di lavori intensi. L'emiciclo parlamentare sarà messo a disposizione degli imprenditori per parlare di quattro temi di grande interesse per il futuro dell'impresa, l'accesso al credito, competenze e lavoro, internazionalizzazione e energia. Verranno affrontati in maniera analitica questi temi e noi dovremo dare dei pareri, ci verranno poste delle domande, quindi avremo modo di esprimere il nostro parere e di influire in qualche maniera sulle prossime politiche europee in tema di economia e di lavoro. Un'occasione per far sentire la voce delle imprese e partecipare ad un processo storico di rinnovamento. Significa affacciarsi al mercato europeo e quindi andare a verificare anche tutte le possibilità che ci sono per l'accesso al credito e soprattutto per le nostre imprese albane. Interessa le mie società ma interessa anche a tutti i nostri imprenditori. Sapete bene che io rappresento una parte degli imprenditori albani con la ConfCommercio e quindi mi sto interessando a questo, a cercare di reperire fondi per rinnovare un pochino le nostre strutture e il nostro territorio. Ho avuto la possibilità di accedere grazie all'interessamento del dottor Arnaldo Abruzzini che è il segretario generale di Eurochambre di tutte le Camere di Commercio europee e tramite Union Camere siamo stati accreditati dopo una selezione.